E stasera, attenti a quei due ore 21.30, Guglielmo Greco, la commedia, il contenuto. Dopo di una canarra passavo qualcosa forse ne ricordiamo. Il contenuto è la storia di due amici scrittori, o quando meno pseudo tali che si sentono, scrittori che campano attraverso qualche articolo che scrivono su un giornale, su riviste, su quello che trovano, per poter mandare avanti o per campare, diciamo così. Ma questi non riescono né a pagare l'affitto, né a pagare il macellaio, né a pagare il salumiere, nemmeno di pagare la loro badante che viene ogni tanto tre volte a settimana per fare le pulizie di casa. Insomma, è una situazione equivoca. Molto, molto equivoca, molto triste. Ma lo sai che sta fine a fare di domani? Molto comica, perché poi dalla tragedia si passa alla comicità. Si sa che si ride con le disgrazie degli altri, no? C'è la gente abituata a ridere con le disgrazie. Ah, voglia! E poi, che dire? E dire che noi, come abbiamo detto qualche giorno fa, non ci assumiamo la responsabilità di tutto quello che può succedere in scena, perché può accadere di tutto, attenzione, perché il testo ci lascia anche liberi di improvvisare parecchio, di coinvolgere qualcuno del pubblico. E poi abbiamo una stupenda rumena, una stupenda rumena che è Lori Ardore, che non è qui presente, Non facciamo il nome, è Lori Ardore. Diciamo che è la ciliegina sulla torta. La torta siamo io, Emanuele, e lei è la ciliegiona, che è un verso. E la ciliegiona, un verso, guarda che ciliegiona. E che dire, ora... E niente, e chi sono gli artisti che saranno in scena? Allora, uno è Emanuele Gianmusso, Guglielmo Greco e Lori Ardore. A stasera! A stasera, ore 21.30, i biglietti ancora ci sono, potete prenotare allo 09.33, 82.27.07. Abbiamo anche le prenotazioni in diretta. Sabato 30, si ci diverte al Cineteatro Antidoto. Salutiamo, salutiamo, salutiamo. Ciao, stasera! A stasera! Tre posti, due posti...